Oggi è la giornata di Farina, appena partito per Zurigo, insomma è un segnale importante per il calcio in generale? Un segnale importante, speriamo che questa vicenda si risolva nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile. Ma ecco, essere lì a Zurigo, chiamato da Blatter, che cosa significa? Che forse il calcio ha bisogno proprio di ritrovare un po' di credibilità, l'etica del calcio, che insomma ormai sembra perduta? Ma credo che non sia assolutamente perduta, credo che prima di dare dei giudizi bisogna aspettare le sentenze. Ma innanzitutto il Milan è una rosa forte, in grado di competere in tutte le competizioni per cui gioca. E quindi il discorso di mercato è un discorso diverso, avevamo l'obbligo di riniziare nel migliore dei modi, l'abbiamo fatto anche perché ci aspettano due mesi molto difficili. La partita è sempre un derby, una partita difficile, una partita contro una squadra che è un organico, che lotterà fino alla fine per lo scudetto e rientrerà per lo scudetto. Io spero di no, ma sicuramente alla fine ce la ritroveremo lì. Tu senti il derby sul Tevez e come lo vedi? No, questi sono problemi societari, di dirigenza, non sono problemi tecnici.